Grazie a tutti. Non è la mano penso. Ho provato a stargli dietro 500 metri. Ho fatto 500 metri dietro di voi. Come cazzo fate? Ma com'è finita? Non so com'è finita. L'è staccato? Ma non è che l'hai fatto perché a livello di foto lui sta sul primo, tu stai sul secondo e siete... No, ma io sono fuori gara. Com'è andata bene? Si è andata, è andata. Non è andata, non è andata, non è andata, non è andata, non è andata. Fatica? Ma fatica? Cos'è? Troppo mosso? Sì, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico. Ho visto dietro. Eri bello di lavoro? Non mi dico che stai con loro, ma non mi dico stasso. Eri bello di lavoro? Come mai investo io? Ottavo classificato, pettorale 635, Alfonsi Andrea. Ehi, la maglietta, festa del vino. Dicimo classificato, pettorale 612, buongiorno Riccardo. Questa ti fa male, fa male? Ehi, questo non so, fa così. Ma, atti con i sportivi, questi non sono sportivi, li porto via io. Non ho classificato, pettorale 639 in moto. Perfetto, grazie. Poi, al 13 cento del posto abbiamo la grutta Giovanni, con il pettorale 136. Che avete dietro la patumiera non è bene. Non è bene, vuol dirlo, le donne belle si dicevano forti. Le più belle. No, capisco, tu non sei arrivata terza e lei è quarta. Tu seconda te terza. Tu seconda te terza. Tu non sei da podio, tu sei andata a podio. Tu sei andata a podio. Allo sesto siamo aperti da Boccioli Sport. E tu seconda. Poi abbiamo un dicesimo classificato agli oniste con i nostri presidenti e staff per i primi. Già mangia. Tanto la figura in salita l'è già fatta. Quindi, come vi dicevamo, oggi viene pregnata la categoria piede d'oro del pettorale numero 12. La figura l'è già fatta in salita. Adesso mangi il gelato. Così ti faccio un bel servizio così. Ormai sei segnata. La nostra facciana, la pensata di disegna, è ormai segnata. E poi abbiamo cinque a su quello. Alleanza a toro si fa a su. Hai corso con quello? E me l'hanno notata a settimana, me l'hanno mai messo. E' un'altra cosa. 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 Ma che deve andare? Averlo spruzzo. Benissimo. Ho fatto un'progressione. E' un po' quanto sei arrivato. Ma non devo tirare tutto. Quinto. Quinto? Sì. Di cui bello non è classificato. Quinto. No, no. Quinto. Sesto. Ti ho visto bene. Progressione. Quando ti ho ripreso ti ho visto che stavi andando. In salita sei andato. In salita no. Piena. Poi hai fatto l'ultima parte. Poi c'è il Ramadan. Poi lo mangiamo. Eh sì. Mangiamo gli nuovi. E voi che mangiate. Giuseppe oggi. Castelletto. Le due rai. Castelletto. C'è anche il gaccio. Il gaccio. Il gaccio. Eh sì. Buono. E dunque fino a stasera. Finunque contento della gara. Sì sì sì. Mi sei sempre contento. Tutta salute. Sempre. Quando si corre è felicità. Io domenica non rispondo a dormire. Se non corro. Piena di sei. Cazzo mi guarda questo piedi d'oro. Se non lo faccio come manca qualcosa di strassi. Come me. Guarda. Non so perché. Veramente non è perché vengo per vincere. No. Tanta, tante, basta. In testa, piedi d'oro vengo per correre. Per divertire. Come me. Guarda. L'unico che... Sergio. Vieni. L'unico che corre per... È lui. Lui non corre per correre. No. Per vincere. Per i miei fatti. Perché loro vogliono che io corra. Eh capisci. Non perché la corsa fa bene. La corsa aiuta. La corsa stimola. Lui mangia sabato. Poi ieri sera a mezzanotte. Bello. Salamino. La birretta. Stamattina. Ho capito che la birra è mica meno. Allora adesso bisogna chiamare i comitativi. Non ci trovi. Ogni domenacchino. Birra, birra e salamino. E la caramela ricola. L'ho fatta già sto stupendo. Sì. Siamo a Rato. Sono a 4 giri. Siamo a Rato. Agli tutti. Guarda piedini. Il vino malato. Eh? Sassolo. Non è che il film di ieri sera ti ha dato talmente tante emozioni che poi... Hai detto che è bella questa antiserra. Alle sera le 7. Dov'è Nerviano? Allora questa la mettiamo di copertina. No ti prego. Non posso fare questa cosa. Settebbe. Uno, due. Uno, due. Arriva il Peter. Questo lo sconfuga. Le acqui. Che schifo. O gli speranti. 80. Tu cosa pesi? 80. 87. Ma stai ieri quello che hai mangiato. Ma sì c'era. Ma stai ti racconto. Ieri. Ma c'era. Si è mangiato uno sticco di maiale. Sì. Ma che ti deve essere accorti. Eh? Come hai mangiato ieri Petro? Uno sticco di maiale. E' schifo. Cioè tu sei veramente scandaloso. Sei un uomo scandaloso. Ma sono andato bene. 87 kg. Ma di qualcosa Daniele. Senza parole. Ma dove è la pizza? Ma ieri sera ha mangiato i pizzoccheri. Sì. Pizzoccheri. Poi tutto quello che avanzava. Ma forse i pizzoccheri sono. Tutto quello che avanzava lui mangiare. Capito? Tipo la mandinella. La mia. Menta mangiare la mia pizzoccheri. Alla fine ha detto. Ma ma manca. Dopo aver mangiato tutto. Ma mancano i pizzoccheri. E' andato a prendere. Certo. Mi sa che in salve. Ma come hai andato in piedi voi? Ma l'han cambiata? Sì. Un po' sì. L'arrivo non era di qua. Ma che numero c'ho io? Io trovo tutto. Ma scusa. Ma non ce la faccio più neanche a dire in mezza parola. Vabbè ma sulla salita potevi. Certo. Fare uno scattino. Hai ragione. Beh quest'anno dai è così. L'anno prossimo è così. È la paranza. L'anno prossimo è così. L'anno prossimo è così. L'anno prossimo. A mangiare. Dove? Tieni te come si può prendere. Alla siciliana. A darci date. Alla festa del santo. Anch'io a mangiare. Dove abbiamo fatto la gara settimana scorsa? Lì in quel posto. Ho mangiato la pasta. Com'è andata? Dura? Dura. Stare dietro i primi da dura. Spiegaci un po' la procedura della bici. Per il pane. Anche i secondi. Vediamo come è. 217. Adesso è un 217. C'è che c'è? Sto. Sto. Dita la categoria. Sto.